Lunedì 28 gennaio 2013 sta nevicando a Padova, come previsto da il sito ilmeteo.it, è la il che fa la differenza, diffidate dalle imitazioni. Ha iniziato a nevicare da questa mattina intorno alle 9, via via sempre più fitta. Inizia anche ad attaccare un po' sull'erba, come vedete. La neve quando cade è veramente stupenda, meravigliosa. Arrivederci da Daniele. Grazie alla prossima nevicata intorno al 15 febbraio 2013.